Nel video articolo di oggi parliamo di rematore con manubrio, un esercizio di facile accessibilità ma che tuttavia nasconde molte insidie. Vediamo quindi oggi la corretta esecuzione, tutte le sfumature esecutive e gli errori da non fare. Partiamo con la nostra analisi da quella che è la corretta esecuzione del rematore con manubrio. Il rematore con manubrio da un punto di vista biomeccanico si compone di un movimento di estensione dell'omero a rom dimezzato, con l'omero che parte a circa 90 gradi di flessione per completare poi l'escursione. Di fondamentale importanza il posizionamento del tronco. Si consiglia di spostare bene indietro la gamba per lasciare lo spazio al manubrio, di mantenere le curve fisiologiche del racchide con il bacino leggermente in antiversione e di non muovere mai il tronco da questa posizione durante l'esercizio. Il tronco dovrebbe essere inoltre il più parallelo possibile al pavimento in modo tale da garantire un'ottimale escursione. Si consiglia inoltre, sempre per garantire un'ottima inclinazione in avanti del busto, un appoggio su panca leggermente inclinata. Il movimento, oltre che di un'escursione di spalla in estensione, si compone anche di un movimento di adduzione contro gravità di scapola. Infatti la scapola parte in leggera abduzione per poi associarsi con un'adduzione al movimento di estensione di spalla. I muscoli attivi saranno quindi gli estensori dell'omero, grandorsale e grande rotondo, e gli aduttori delle scapole, romboidi e trapezio medio. L'esecuzione del rematore con manubrio permette uno svincolo articolare che dà la possibilità di eseguire tre varianti differenti a seconda di come viene ruotato l'omero. Le tre varianti sono quelle in rotazione neutra, in partenza con la rotazione esterna dell'omero e in partenza con la pronazione dell'avambraccio. Da questa posizione poi è possibile sollevare il manubrio ed effettuare delle rotazioni con l'avambraccio stesso. Che cosa cambia tra le tre varianti? Innanzitutto diciamo che da un punto di vista ipertrofico sono degli accorgimenti detutto irrilevanti. I muscoli interessati si contrarranno efficacemente con qualsiasi delle tre varianti. Ad ogni modo possiamo dire che la variante in extra rotazione dell'omero è utilizzata per portare maggiormente in allungamento il muscolo grandorsale. Da questa posizione poi il manubrio verrà sollevato e portato di fianco al busto con il manubrio in posizione neutra. Viceversa se solleviamo con una partenza con l'avambraccio pronato non avremo il massimo allungamento del muscolo grandorsale per via della mancanza dell'extra rotazione. Tuttavia sollevando il manubrio e ruotando l'avambraccio in posizione neutra favoriremo una migliore fisiologia del gomito che prevede infatti l'associazione di pronazione e estensioni di gomito, flessioni di gomito e supinazione dell'avambraccio. Quindi questa variante va più nella direzione del rispetto della fisiologia del gomito. Arriviamo agli errori comuni che si possono eseguire durante il rematore con manubrio. Questi vengono eseguiti essenzialmente a livello del tronco. Infatti è molto comune vedere persone eseguire l'esercizio e durante l'estensione di omero ruotare il tronco per darsi lo slancio. Evitate questo tipo di errori perché così diminuerà l'attivazione muscolare. Eseguite sempre l'esercizio in maniera controllata mantenendo fermo il tronco, le curve fisiologiche, il bacino in leggera antiversione. Le uniche articolazioni che si devono muovere sono quella scapolo omerale e quella scapolo toracica. In conclusione di questo articolo sul rematore con manubrio vediamo qualche piccola sfumatura esecutiva per dare enfasi su un muscolo piuttosto che su un altro. La prima variante prevede di portare il manubrio alla tasca flettendo un pochino meno il gomito, allungando un po' la leva e dando quindi maggiore enfasi sul lavoro del muscolo grandorsale. Viceversa se invece flettiamo di più il gomito e portiamo il manubrio al fianco daremo maggiore enfasi a livello dei muscoli adduttori delle scapole. Questo perché ci sarà un'escursione maggiore in estensione di spalla. Altra sfumatura esecutiva che possiamo dare all'esercizio prevede il movimento del cingolo scapolare. Possiamo decidere se far lavorare i muscoli adduttori delle scapole con contrazioni isotoniche, eccentriche e concentriche muovendo e svincolando la scapola durante il movimento. Oppure possiamo decidere di mantenere la scapola ferma, far lavorare i muscoli adduttori in isometria ed eseguire l'estensione dell'omero da questa posizione. Concludendo questo video articolo una piccola precisazione. Per mantenersi nella posizione corretta col rematore con manubrio visto poco fa è necessario possedere un ottimo schema corporeo e saper posizionare correttamente bacino e colonna, soprattutto racchi del lombare. Molti soggetti che frequentano un ambiente fitness potrebbero non riuscire a fare ciò nella maniera corretta e quindi potrebbero non eseguire l'esercizio in sicurezza. Per questi è consigliata una variante prono su panca eseguendo l'esercizio con entrambi gli arti superiori con le medesime modalità appena affrontate.